Si chiama P-Art, una pietra sopra l'altra, ed è un progetto mirato alla salvaguardia e alla valorizzazione di muri, terrazzamenti e altri elementi architettonici realizzati in pietra secco, particolare tecnica costruttiva riconosciuta a patrimonio dell'UNESCO. Manufatti come tetti in piode, baitelli e percorsi lastrecati che fanno parte del DNA di territori come la Val Brembana, la Valtellina, la Valle Emagna e l'area dei quattro parchi dell'Alta Brianza Lecchese, e che proprio per questo costituiscono un'arte da custodire. Un progetto che vede come ente capofila il gruppo di azione locale Val Brembana 2020, attivo sui territori di 55 comuni in un'area di oltre 77 mila metri quadri, e che coinvolge anche il GAL Valtellina, Valle dei Sapori e il GAL quattro parchi e la Cobrianza. Noi abbiamo scelto di puntare su questa tecnica, il P-Art della pietra secco, che è molto importante per i nostri territori, se della Val Imania, se della Val Brembana. Qual è l'importanza poi alla fine di queste strutture che non si costruiscono più, tra virgolette, ma sono importanti. Perché, a parte a livello emozionale, io dico sempre mia emozione, essere qua in un posto come oggi, qua a Corneimania, in questa località, veramente è emozionante. Poi se si pensa alla fatica e alla ricchezza che trovavano in questi muretti, in queste costruzioni, i nostri antenati, io penso che già lì un po' il cuore si apra. Obiettivo dell'iniziativa non è soltanto tutelare, conservare e valorizzare le costruzioni in pietra secco, che nel corso di secoli hanno modellato il paesaggio dei territori aerobici. Grande attenzione è stata infatti rivolta alla formazione professionale, con corsi specifici per il riconoscimento della figura dell'operatore di costruzione in pietra secco. Ma è la ricchezza che noi vogliamo fare ricadere sul territorio, anche proprio riconoscere una figura professionale che diventi esperta di costruzione di questi muretti a secco, o la conservazione di questi selciati. Non sono facili da costruire, ci sono delle tecniche apposite, non c'è cemento, perciò devono essere posizionate le pietre in un certo modo, però la durata è eterna. Ci sono delle costruzioni che sono in buonissimo stato, conservate benissimo e il nostro scopo è anche quello di mappare queste costruzioni, in modo che un domani rimanga anche scritto quello che potrebbe essere un gioiello e anche un intervento magari da fare nei prossimi anni per recuperare, per mantenere, ma anche per far conoscere questi territori così importanti. Un progetto che vuole anche essere un driver per il rilancio turistico del territorio. Faccio un esempio, la Contrada Fraggio dove noi andremo a fare uno dei corsi di formazione, tuttora è visitata da tantissimi turisti, la frazione Pagliari a Carona anche lì è visitata tantissimo perché sono borghi storici, chiamiamoli così, come qua a Caberizzi, è veramente un borgo storico a Corneimania, perciò i nostri corsi che si svolgeranno proprio nel prossimo mese in queste tre location, perché sono location importanti ma anche dal punto di vista turistico.